Ciao, oggi sono in studio che sto aspettando le mie clienti. Alcune arrivano da fuori, alcune sono più vicine, alcune non riescono in settimana e quindi le aspetto al lavoro, felice di riceverle e di cocolarle. Ma nel frattempo, che ho un intermezzo, stavo pensando, siccome sto tirando giù alcune parti per il corso del 27, stavo pensando a quanto sia vera la teoria che le cinque persone che frequentiamo di più ci condizionano e ci possono rendere la vita più ricca oppure la vita più pesante, arrabbiata o sabotante. Se chi ci inconda e chi scegliamo di avere tra le cinque persone che frequentiamo, vediamo, ascoltiamo e ci nutriamo di più, se queste cinque persone sono positive, la nostra vita, il nostro modo di pensare, il nostro modo di essere diventa, se noi siamo positive, ancora più positive. Se noi siamo costruttive, diventa ancora più costruttivo. Se sono stimolanti, intelligenti, proponenti, ci danno uno stimolo. Ma ce lo danno anche se noi, in questo momento, magari fossimo un pochino più tristi, più pesanti, meno frizzanti. Ci aiuterebbero comunque a ritornare nello spin, nel giro di positività, costruzione, forza, felicità, allegria, eccetera. Il gruppo di persone che noi frequentiamo ci aiuta anche a concretizzare maggiori successi, a aumentare il flusso dell'abbondanza, ci aiuta a andare oltre i limiti. Molte volte aiuta anche a uscire dalle zone di comfort zone. Quindi dobbiamo stare molto attenti alle persone con le quali noi ci rapportiamo e le persone che scegliamo di avere nella nostra vita. Non solo ai nostri pensieri, ma anche alle persone proprio con le quali entrare in relazione. Uno dei fondamenti del cambiamento è proprio tenere a mente che per raggiungere qualsiasi successo, qualsiasi positività, qualsiasi benessere, qualsiasi situazione in cui si sta bene, dobbiamo scegliere con cura i nostri amici, con attenzione le nostre persone. Quindi bisogna lavorare su se stessi sempre, cercare di diventare la nostra versione migliore, ma bisogna anche stare attenti alle persone con le quali ci interfacciamo. Perché molte volte ci lasciamo, non so, trarre, ci lasciamo coinvolgere da persone negative, sempre rapiate, sempre giudicanti, sempre negative su tutto, che ti dicono dalla parola in su. Ah beh, io sono fatta così, io sono fatto così. Beh, vi posso dire che possiamo scegliere qualcosa di meglio. Ma scegliere qualcosa di meglio, cosa vuol dire? Scegliere persone che abbiano voglia di stare bene, persone che ci permettano di stare bene noi, e abbiano voglia di stare bene, ci aiutino quando siamo magari un pochino più paturniose, e ci dicano, Eli, oh, guarda che oggi, cerchete di tornare su con l'energia. Io ho la grande fortuna di avere un lavoro che amo follemente, e fortunatamente nel corso degli anni tutte le persone, le clienti e amiche che frequentano il Burn to Be Happy, sono persone positive, persone propositive, intelligenti non solo mentalmente, ma anche intelligenti emotivamente, persone che hanno voglia di stare bene, che hanno voglia di costruire il loro benessere. Benessere non è stare bene, stare bene è un'azione transitoria, ma come dice un mio carissimo amico, una persona per me è molto speciale, benessere, essere nel bene, quindi essere costantemente nel bene, essere in uno stato di volersi migliorare, di voler nutrirsi di cose belle, stimolarsi, curiosare, e sperienziare, come i bambini, no? Quando con curiosità vivono. Ecco, questo è quello che io voglio, e le persone che voglio nella mia vita sono proprio queste. Quindi, molte volte se vi diranno, sei cambiata? Beh, sì, sì, scelgo le persone che voglio, e amo le persone che ho scelto, totalmente e completamente.